La Fermacri torna in primo piano in attesa delle decisioni in tribunale. La decisione annunciata dal Vice Sindaco Tanti di presentare il ricorso al Consiglio di Stato non ha convinto i consiglieri del gruppo PD che criticano il passo fatto dalla Giunta. A nostra posizione riteniamo questo ricorso inutile, ridondante perché c'è già stato un intervento dell'ANAC e del TAR che ha ritenuto questa nomina illegittima. Ma di conseguenza noi riteniamo che queste risorse che il Comune andrà a spendere in questo ricorso dovevano essere utilizzate meglio, in particolare per aiutare i cittadini in una situazione di gravi difficoltà economiche. Qualora il ricorso fosse accolto si aprerebbe un nuovo scenario? Questo sicuramente anche se poi è da aspettare anche le sentenze sotto il profilo penale civile che sono in corso.